E' un onore oggi prendere parte a questa manifestazione evento per la festa dei 200 anni dalla Fondazione del Comune di Bianchi, nonostante quelle che sono un po' le misure restrittive, nonostante il tempo che oggi non è clemente, però l'evento vede la partecipazione di numerose istituzioni, autorità e racconta un po' quelli che sono stati i 200 anni della storia di questo piccolo paese ai piedi della Sila Piccola, un paese che comunque è uno scrigno di bellezze artistiche, architettoniche e anche naturalistiche. Oggi ripercorreremo i 200 anni della sua fondazione attraverso la figura di numerosi sindaci che hanno fatto parte della storia di questo paese. Io sono lieta in qualche modo di prendere parte a questo evento mettendo a disposizione quelle che sono anche le mie competenze. Grazie! Grazie! Grazie!